Linkato lo short di Fieric di prima Volevo mettere... Grazie a pubblicità Grazie a velocità Grazie Figurati Io non ho mai fatto uno short in vita mia Neanche io Fanno i miei editor Va bene Vincenzo Farmi tu Quindi prendi pure il tuo... Doran Prendo la relic E andiamo Ok un invade ci farebbe comodo Invadiamo Invadiamo Perché ci abbiamo a stop? Vabbè Contra elia O se vince È fantastico Oh no Oh 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 Ok Vai La facciamo questa Sì sì Oddio Te la faccio saltare Ah io stavo staccando il grasp Presa C'è qualcun altro qui C'è qualcun altro Oh Oh Non l'accupero Toglio Mamma mia Presa Grasp Ok Ma che ce ne frega vai Bravo Il grasping bot Mi affido al dive di Masterino Ok Oh mio Dio Non mi direi che ci credo Ok Non lo proccheremo mai Il grasping bot Abbiamo 30 stack Tanto c'è il tp Tutto calcolato Perché vuole rubare Cioè se qua arriva E torna di nemici È finita per noi Che vuole fare Ma lascia Questa Ovviamente così Ha più senso invadere Prima non aveva più senso invadere Ah così proprio Effettivamente Vod siamo dei mostri L'obiettivo è quello Tu sei la stunni E poi ti seguo È assurdo Peccato che Merdinger Con quelle cazze di torri Rompe le palle Vabbè A portata di una Easy Monte Merdinger Max IQ Easy Vado Non so Non ho altre spell Vabbè Autoattacchi Basta Ne avanza Io voglio semplicemente Proccare un po' il grasp Ecco Facile Presa Facino Eh No Aspetta Ma andassi di là Vabbè Ogni volta che salti Ti seguo Oh Ok Forse è un po' pazza Questa No no Eh c'è il jungler Garen Oh no Ti abbandono Mi sorri Sì 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 Eh vabbè Eh però ci sitano Così non va bene Pure la tassa Ovviamente Stattiamo di Artsteel prepotente È l'artsteel Che ti fa diventare gigante Sì Ti fa diventare gigante Ti dà 800 HP Ti fa Ti dà HP perma Garen Non so se è il guanto O l'artsteel Però sì è l'artsteel Ma sta ancora qua Garen Comunque Stanno camperando Lux e Garen là dentro Grande Ok È un laner Si è unito alla botta Vabbè ci sta È più facile proccare il grasp Su di Se avessimo l'artsteel Mamma mia Ma cosa fa? Padre il grasp Non lo so Garen si è unito Chissà se si fanno domande Basta Se è andato Oh no C'è il guardiano Possiamo andare C'è il terzo support Il secondo support C'è il guardiano del cancello Non possiamo far niente Oh Guarda dove sta andando Andiamo andiamo Sono dei Perfittiamo Sono in range per seguire Non mi sembra una bella idea Ma più che altro Non abbiamo ancora danno Io non ne tengo proprio Non manco mano in realtà Vabbè ma sei pazzo Moriresti per un attacco di grasp Diciamo che effettivamente È stato un po' esagerato Lo ammetto Però stavo facendo Limit testing Adesso Limit testing Ci sta Ci sta Poi sai non c'era gare In cui ho detto Mio Dio È il mio momento Invece Purtroppo è un po' Complicato Con le torrette di Merdinger Chris 98 Oh no Apprezzavo il carretto Garen e Ita Prop Filiax Posso sapere perché Chris 98 Ci sta che sei Ita Anzi è quasi sicuro C'ha 98 nel nome Ah Ok Ok Bel roaming Succoso Bello Ok non posso far più un cazzo Ora però Abbiamo fatto il nostro Quanto è Troppo tempo Abbiamo un paio di Soldini qua Bello Proprio meno Bello Il mio mana Non è proprio No era per togliere Le torrette in realtà Le torrette mi danno Certo Sono unità nemiche Yes Ok Vuoi andare back Se ti conviene Oh però c'è Chris Senza mana Possiamo ucciderlo Questo Così Facile No devo farlo prima Cazzo Va bene Prendo questi soldini Ci siamo messi bene Quanto hai di gold? Mille gold Ok Ado back Però quella Tenta Eh però sta un chilometro di distanza No Facciamo stare Sei cambiato Non riuscirei a prenderla Quello è il problema Lo farei anche Eeeh Stai cuffie di merda Devo fare un'altra ripassata Scusa Ricomprano uguali Non ci sono Perché sono cuffie cinesi Che ogni paio d'anni Spariscono Dal mercato Ah ok Dovrei Cioè già ne ho comprate altre Di 16 euro Le sto cercando Le sto provando tutte Non so Ma non sono la stessa cosa No Ancora lì Ma quella Vabbè Pazza Se la cerca però Ci la fai ad attaccare Sì Vai Don Ma se lo picchiassimo di autoattacchi Senza proprio Ok Io ci muoio se lo so di autoattacchi Pazzo me la faccio Io non ho la passiva Ok Il carretto mi ha ucciso Eeeh Il carretto è forte Il carretto l'ha smarfato Che palle Mi mancano un altro po' di soldi Vabbè abbiamo resettato È arrivato il guardiano Ci vediamo a un prossimo video Il livello di guardiano Ogni tanto Ebbè è venuto a rubare Io c'ho la passiva Non mi manca poco al 6 Però il guardiano è forte Non sottorutiamolo Attendo il carretto Il mozzicone Penso che se salti su di uno Lo shottiamo C'è anche Warwick che ha gustato Mamma mia quanto faccio cagare Insomma Vabbè ah i soldi vanno bene lo stesso Eh Ok Mamma mia Dai abbiamo preso il grasp Eeeh Basta I soldi Il carretto vuole unirsi A me non dispiace Non ha ancora il 6 No ce l'ha Si C'è l'indicatore Eh lo stavo guardando l'indicatore Però ho detto Ah lo faccio preciso Un po' presto Va buono Eeeh Vai tiriamo il Daemonish Guarda Tutun 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 Tong Ok C'è il guardiano Guarda Mi faccio ultare Mi faccio ultare Eh ma questo Eh si infatti Ultela te Non so Ecco fatto A post Vorrei salvarti In qualche modo Eeeh Forse mi salvo eh Io questa la potevo uccidere Mi ho buttato il mana Oh Ah sei vivo Grazie Kuzimer No eeeh Ho fatto una cupo e devo dare un morso Però no 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 Nemmeno una stack Ok Però ho l'hardsteel E le scarpe Mi faccio cdr così farmo prima C'ho anch'io l'hardsteel Vado back Ok abbiamo violentati A dovere Easy Grazie Grazie mille Allora mammo Per il prime Benvenuto Perché vuoi che è venuto A tastare la botta Ma Oh Rook Beh in realtà ci sta Perché è arrivata sotto torre Poi Sembra quasi che Sarà giocata bene Io mi faccio Io mi faccio La visage Sai Eh si Eh si Eh si Che me la faccio Così mi refullo Mi da tanti hp E scordare le pozze dopo Le pozze Le pozioni per Per diventare grosso Ah vabbè E l'isir Prima che ci arriviamo A voglia Eh Vincenzo non sa Delle scarpe Però ci sta a fare queste In realtà Per mangiare di più Lo approvo Quale Quale scarpa Non si fanno le scarpe Non danno hp Oh andiamo Andiamo Sono proprio ignorante Cazzo Eh vabbè Mangialo Questo lo ammazziamo di base Ah vuoi mangiare quell'altra Eh meno non ce l'avevo up Uno Hai un altro saltino Eh Eh Il morso ce l'ho ora Ok Ah Pensi che non staccherò proprio minion No ma tanto Puoi farlo tipo In late Quando c'hai poco cooldown Sì quando non ho cazzo da fare Che ho la Poi la R ogni secondo Sì Ora non ne vale proprio la pena Tanto poi come vedi questi Possiamo fare i tagli di 3 secondi Sono ancora un cucciolo Il demolish Mi acutino si strofina 14 secondi o la R Sotto le sue ascelle Buonasera uomo enorme Ah Oh foro Oh mio dio santo Di Mi ha preso D'un pixel Peccato E non ho la R È stati Un po' sfortunati E mi sono fatto prendere È un po' fumaccio Eh capito Vabbè dai E così Non vanno a FK Guarda l'altro positivo Ah dici che si casano E non si rendono Sì sì esatto È esperto Sì sì Poi quando Contro di lei Penso prenderemo un cazzo grosso Come una casa Ma facciamo finta Che non accadrà mai Non arriverà mai quel momento Vabbè Facciamo l'anatema Su di lei Tutti e due Sì Quello è poco Ma sicuro Gantu Grazie mille del sub E bentornato Bella Bella Bello Sarà un gigantesco Eh 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 dai Vabbè Flesciato Arrivo Peccato I have it Lui ce l'ha Non mi aspetti Ho fatto ultare i merdinger Guarda Easy Dove va Lux Perché mi insegue Ma non comprende Le gerarchie Di League of Legends E questo me lo bagno Oh no Fa male Ok Pure quello c'è lì Andrea Comunque Non siamo proprio Contro un bel team No Però io mi faccio La visage Quello Quello fa Enemy dominating Quando Irelia top Contro Ash Può permettersi di farsi I Mercury Capisci che È un problema Sarà un grosso problema C'è il guardiano Andiamo via Andiamo via Che quello c'ha la ultima Dove la passiva Quanto ti manca? 40 secondi Strano che non ci abbia inseguito Pino alla morte Ok Saranno mid Ah perché non ci ha visto Il richiamo dell'herald Voglio rimanere Ma sì Tanto c'è il tp A brevissimo In realtà puoi andare back C'è il tp No lo so Volevo provare a mangiarne uno Magari qualcuno Stanno facendo il drago Quello ci farebbe comodo Allora mi mangio un minion Questi due buchi Potevi mangiare il drago Scusami Allora lì dentro W la sega di Bruno Eh beh non è il flash Mi buttavo lì dentro Ma ammazzavano prima Fai mettere una guarda Sì Ok Hanno fatto Guardato qua Sì Un po' Vogliamo la ward Volevo lasciare a te Vabbè Oh io mangio i campioni Tu farmati le ward Ok Le tarren Ingaggio? Sì Sì Mamma mia Vole l'art still Quanto cazzo di danno Iniziamo a fare dei bei danni E iniziamo anche a diventare grossi in realtà Eh E Ria ci troverà uguale Ma quello Un altro discorso Vabbè però saremo Due cose grossi Va bene così Ricordati che non si gioca in Iron Per vincere Si gioca per fare il proprio troll Oh ecco il guardiano Io c'ho il mozzico Fra 15 secondi Se questo ti insegue fino alla morte Staccargli questo Lux Mangiabile Ah Può essere guardato lì Non è che ci sghostano davvero Oh no Chissà che ti lascia Sì Siamo là Andiamoci a prendere quello shutdown Io c'ho l'item E mo mi do fa un po' D'armor pure Ma anche magic rest Perché quelli comunque bucano con l'item E mi sa che mi farò la visage anch'io Arrivo top Prima CPR Ok Ti tippo dietro L'ho morso in testa questa Ok Vai Morsicala Ok Do sta Gnamma Gnam che buona Belli mille gold secchi Poi si ristorgono tutto Più stack Hai preso anche la stack di ultimate hunter Buono Mamma mia La cosa più worth della giornata Dopo Il pollo di prima Con le patate Quello pure era molto worth Eh Bot Vincenzo Bot Ma Ma C'è una fu Ci distruggono tutto Devo prendere questo blue buff Ah vabbè La stack CBR No dai Questi Questi qua Gostano per forza Questi gostano per forza Non era guardato Ma è arrivata una bolla Mentre stavo recallando Il cespul Ma secondo me questa Tira le cose a cazzo Però eh Dice Quanto anno fa in totale Sta Il 471 Può essere però Ah mi ha messo la guarda Allora la chiedo perdono Ho lo shop aperto Allora va bene In questo caso Ma è morto Warwick Ma i nostri aliati Sono una tragedia Andrà molto male Sto game In late Sappilo Importante Esserne Importante Esserne consapevoli Io a breve ho Una stack Che devo assolutamente Paraglia Erilea top Sì Sono un po' indietro Ma ok ci arrivo Piano piano Grazie Cree Per i 28 mesi Bentornato Grazie mille Grazie Eccola Quella intelligente Abbiamo beccato Sto arrivando Non mi sembra Proprio tanto Tanto Penso come può essere Ash allora Oh no La bambina Ehm Non volevo Staccare te No Vai vai Ottimo So stack Wow Colmo Se questa ci fa Tutti quanti No no Mi è dentata Io la voglio Ignatata Poi Irelia Ehm Irelia Qua Mi sa che è del mestiere Arriva veramente un sacco di danno Pure da lux Con lì Andri Mi sciolgono Troppi item Sugli hp Vedi Sparano un sacco di roba E poi guardano dopo Ma che cazzo Vabbè Dobbiamo diventare Oddio santo Ma È un Aram Faccio la passiva Allora Quanti stastengo Sui non campioni Me ne posso fare altre tre Ma a sto punto Se questa zoe Ce la regala No vabbè Niente Scherzo Eeeh Io sto facendo La temas chain Ma Severà tante preghiere Bello sto drago Questo drago Che hanno appena fatto Drago che noi Non abbiamo preso Just another day on the job Tra l'altro M'ho fatto l'undice Scherzo Erile livello 46 Due game 25 kills In media per game Ok Eeeh Un po' smarfitto Ma noi saremo gli smarf più grossi Cioè non sembra bravissima Però Cioè si sta facendo dire Cioè si è fatta questa Quindi sa giocare Morirò io Mi sa che mi devi abbandonare Ciao Fai scappare tu Provo In teoria si Non facesse dei danni Fuori da Dall'umana concezione Ok dai Ci sei ci sei Si Inizio già a essere un po' Grandicello Devo fare armor adesso La Tormill Ok Tipo dietro Facciamo i pazzi Quella Irelia che sta morendo Tutto torre Che Si Forse sta Ma poi non ha oggetti di armor Come ha fatto a tankare così tanto Vado che danni che c'è sto cosa comunque Eh si Con l'artsteel E purtroppo Quando Allora fare i pick full hp Un po' un gambling Quando ti becchi Di smarf Cioè non puoi far nulla Perché non puoi carriare Vediamo Siamo riusciti a cavarcela qua Comunque che danni Addirittura Ho fatto fascia Fara una kill Vabbè sta 1-7 Quell'altro Ok Facciamo la kill Degli scarsi Io tra 200 gold Avrei L'anathema's chain Che non servirà Un cazzo Però La facciamo lo stesso Miam 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 Vabbè prima di finire il game Prendiamoci gli elisir E Facciamo quello che dobbiamo fare Per il meme Dici ok Oh mio dio Scusa 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 Eh non lo so Vabbè quella si fa un'altra kill meme Oh la kali Ultima stack Eccola qua La queen Guarda che sberla tiro qua in top Eh sono un attimo preso qui Ah state facendo Facciamo cose Facete Facete Ma si refulla Questa bastarda Il danno che le ho fatto E' un po' un problema qua Forse Rela viene data a prenderti Stranamente Dici Ma io esattamente come mi refullo Non c'ho mancora Warmog Ah l'hard still dà così tanta rigenerazione L'hard still no Non dà rigenerazione C'è ne dà poca Ti fa refullare di certo Ah il redbuffo sono imbecille ragazzi Scusa Giustamente Imbecille proprio Imbecille Ah Cazzo non ci ho pensato Potevo andare a provare a rubare A vol morso Adesso posso staccare solo campioni Quindi è il momento Ehi ciao Che sta succedendo? Oh no E niente E' un sacco di danni E' un sacco di danni Ci sono troppi oggetti Che counterano gli hp Quindi non ci puoi fare Mi sa che muoio comunque Si Vabbè Ci è andata male Però la nostra botta Incazzo l'abbiamo fatta per bene Settemila Settemila quattrocentosessantuno Settemila quattrocentosessantuno d'anni No dobbiamo spawnare con le pozze però Prima di chiudere questo game Eh sì si può fare Bene Non possiamo andarci senza No no che è stata l'anatema Non cambiava niente Perché l'avrei tirato su Irelia Eh sì l'anatema l'ho fatta su Irelia Ma comunque Merdinger buca Vabbè ci sta Va bene Va bene lo stesso Voglio dire Ci abbiamo Ashtop 512 Poveria si è beccata Già vabbè che gioca ashtop Quindi insomma Non può se la cerca Però Sbeccate le Irelia Smurf Ti sei pozzato? Eh no Non c'avevo soldi Eh allora Non lo faccio nemmeno io Facciamo l'ultimo fight da giganti Buonanotte Ok Ora c'ho i soldi Però devo riuscire ad andare back Irelia si sta suicidando Ok Gnam Eh meglio di quanto mi aspettassi Se questa continua in ta Preso la bambina Sto prendendo tutta la vita C'è anche Garen Che pure lui fa danni sugli HP Sì Vabbè Eeeh Mi ha bannato Varus Ma di fatto non è cambiato tantissimo Sono gli item il problema Nei campioni Ashton rating top Lei una lane ha scelto Quella lane deve Per seguire Nooo Non abbiamo il tempo di sfilare Dici 30 secondi E magari Guarda Kali come difendo Guarda guarda Può essere i Vash Ah i Vash Sì 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 Devi trastare l'ash E ci sciolgono i danni Gli item Così a capire Ce l'ha Lux E Merdinger Irelia Garen fa la R Hanno veramente una comp Antti noi Serve l'ultimo combattimento Proprio Ho shoppato Ho shoppato Sono pronto A me mancano 200 No Ashton Ma cosa fai Ma cos'è Ma cos'è Questo combattimento Di torrette Che sto vedendo Ma Mi faccio questi Minioni Sono pronto E l'ho comprato Eh sì Mi mancavano Perché comunque Se chiudi un item Mi dà lo stesso L'estate Guarda Myrelia Menala Menala Che bravi che siamo Vai compra compra Che c'è Garen Aspetta Adesso arriva 15 gold Cazzo non c'è Niente Tristezza assoluta Ci sono Bonk Comunque Siamo belli grossi Facciamo paura Non è Irelia Però facciamo paura Grossi ma Inutili Grossi e inutili Sono apparenza Siamo pieni di steroidi Guarda qua Che meraviglia Siamo fighissimi Guarda quanto spazio occupiamo Agali minus La possiamo Body bloccare In un attimo Mi hanno colpito Capo c'è qualcuno qui Capo l'ho presa Attenzione Ash Il miracolo Ecco Irelia L'ho preso Ok No moriamo male No moriamo male Saltate tutti Merbinger mi aspettava là con le torri Mamma mia Troppi danni mi fanno Ha senso andare su Warlock Dovevamo fare il Sunfire Secondo me Io lo stavo buildando E' un po' di danni in più Eh lo so Io Quell'Anatema Secondo me Ridicula il cazzo Ho capito Ma dava tanti HP Eh lo so E' vero Titanica E Sunfire Invece di Anatema E No Anatema no Però Gli altri ci serviva Proteggerò tutto No Aiuto Sua gigantità 10 secondi arrivo Sua gigantità ci sta provando Difeso Ho difeso Ho difeso Non riesco a flashare Oh mio dio sono vivo Oh mio dio sono vivo Oh mio dio Oh sta funzionando Non ci arrivo cazzo Arrivo Pesa Ti è presa Non ci arrivo Continua Non debordere Bello Il mozzico In test Ottimo Oh il drago Dobbiamo prenderlo questo Tutti insieme Questo è importante Se riuscissimo a prendere Quattro draghi di questo Ci rifulliamo all'infinito Si Quanti danni faccio Faccio 1800 Ah però Meglio dello smite Ok Vai Non faccio questo andare back Gli altri Loro provano a fare il baron Però Cioè 5v5 Non penso che ce la possiamo fare Vai Ma che vuole I garennone Belle queste stack Però che non ho il morso Oh mille volte Quelle zoe sono stack Piccola game Ma dobbiamo andarcene ora Perché stanno arrivando quelli grossi E perché ci distruggono la base anche Tra l'altro Tra le tante cose Io faccio la Tormela a sto punto Fanculo Non so che non da miliardi di HP Però ragazzi Cosa fa la Titanic C'ho qualcosa per darci la carica qua Quanti HP hai 64 Vabbè Non riuscirei mai a raggiungere i tuoi A te non vale la pena forse Per la Titanic A me sì Io potrei farmi l'altra La maschera Oh comunque 43 45 Vincenzo Stiamo Combattuto Guarda 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 Presa 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 Aspè Se si leva questa dalle palle È buono Pure Merdinger forse prendo Oh mio dio Esagerato Non c'è occhio Che arriva Merdinger rompe il cazzo E sparì L'ho preso Ottimo Ok Andiamo via Andiamo via Andiamo via Vabbè Ma di chi abbiamo paura ora? Questo? Erina è un po' di porca Ma se lei Inta però Effettivamente Ma inizia a fare quella roba La prendi? Sì Cioè non con questo Però ok Abbiamo preso Ok Oddio Oddio La combo dell'anno Sapevo che si girasse Per prendere All di nuovo il morso Ok Possiamo provare qualcosa Tornata a Lux però Che partita combattuta Ah ha preso il colpo Sembra un iron Ehi sto come intercettato Come intercettato il colpo di Ma aveva manco preso Aveva preso il minion Ma vabbè Eh no Io voglio intercettarlo Ok Mi sono lanciato preciso Soffici 9000 HP Molto belli Oddio che palle Sto tizio Ah ho niente Questi sono vita morti miracoli Dove sto Ma ce la fai? Sì Parcela ce la faccio Baron non c'è O vanno da Warwick Ma devi stare attento No ragazzi mi sto facendo la titanica prima Secondo me faccio un sacco di danno Ok Si è salvato Per miracolo ma si è salvato Io non ho le scarpe in tutto ciò Guarda In realtà anche la maschera L'abbraccio demoniaco non sarebbe male Sono tutti in topling Guardali Forse è addirittura meglio sai L'abbraccio Io quasi quasi mi compro No vabbè sti cazzi Aspetto dopo l'elisir No aspetta Vincia è troppo È troppo Ma siamo da soli Ma sono la torre Ho capito Ma i nostri alleati non ci sono Qua dobbiamo rivappare Anche se siamo grossi Non ce la faremo mai Aspetta So io cosa fare Vincia Guarda ti do la carica Così Vai Vincenzo Lanciati Sta funzionando No aspetta Non mollare Sto more Beh Sono morti Giaconci In Vicenza Oh però aspetta Guarda Asce Oh Sta ferma Sta ferma Vincenzo Cos'era quel teleport Sul posto Scusa Per salvarti Sulla tua cosa La merda Ah è vero Però mi ha fatto Mi ha fatto molto ridere Abbiamo perso Lo stesso Abbiamo perso Niente Asce a un certo punto Faccia un sacco di danno però Mannaggia Ero convinto che i giganti Vincessero nell'anime Invece no Abbiamo perso Spoiler Unlucky Abbiamo spoilerato Il finale di attacco Con Titan Ragazzi Mi dispiace I giganti perdono Per colpa di Irelia 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 Jäger Mamma mia Non so quante box Tengo qua sopra Sono tipo 33 forzieri E due chiavi Cioè due frammenti Chiavi Comunque Se guardi Il grafico dei danni Ti rendi conto di qualcosa È un altro storto In sta partita Aspetta Fammi andare a vedere I due tizi Quelli che Villasola Capiscono Madonna Erano pure dei falliti Erano stramorti Ma quanti danni Teneva i merdinger Non l'ha mai fatti Nella sua vita Quei danni Secondo me Forse è che C'è dato molto male Comunque con i pick S